si riunivano all'aperto ora che la stagione lo permetteva attorno un tavolinetto del caffè sotto gli alberi di via veneto là attorno al tavolino dopo i saluti raramente scambiavano tra loro qualche parola sorseggiavano una piccola pilsen succhiavano qualche sciroppo con un cannuccio di paglia e stavano a guardare tutte le donne che passavano per via sole a coppie o accompagnate dai mariti spose giovinette giovani madri coi loro bambini e quelle che scendevano dalla tramvia dirette a villa borghese e quelle che ne tornavano in carrozza e le forestiere che entravano al grande albergo di rimpetto e ne uscivano a piedi in automobile non staccavano gli occhi da una che per attaccarli subito a un'altra e la seguivano con lo sguardo studiandone ogni mossa e fissandone qualche tratto il seno i fianchi la gola le rose e braccia trasparenti dai merletti delle maniche storditi inebriati da tutto quel brulichio da tutto quel fremito di vita da tanta varietà d'aspetti e di colori e di espressioni e tenuti in un'ansia angosciosa di confusi sentimenti e pensieri e rimpianti e desideri ora per uno sguardo fuggevole ora per un sorriso lieve di compiacenza che riuscivano a cogliere da questa o da quella tra il frastuono delle vetture e il passaraio fitto continuo che veniva dalle prossime ville grazie a tutti